Erano le 8 di questo lunedì mattina quando un ragazzo di 13 anni è stato investito in via Benedetto da Maiano, zona Santa Maria delle Grazie. Il giovane stava presumibilmente andando a scuola per l'ultimo giorno di questo anno scolastico. Subito attivati i soccorsi, sono arrivati sul posto l'automedica di Arezzo, la Croce Bianca e la Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi e dovrà ricostruire ora la dinamica dell'investimento. Sul momento le sue condizioni sono parse critiche ed è stato immediatamente trasferito con il Pegaso all'ospedale Maier in codice 3 che corrisponde al vecchio codice rosso. Da Firenze invece arrivano per fortuna notizie rassicuranti, i traumi sono multipli ma non è in pericolo di vita. Sul logo dell'incidente code e traffico bloccato vista l'ora di punta del mattino.